Allora qui ho due esponenti della Fashion Team di Torino e sono due non esponenti ma due pilastri che detengono questo mercato della Fashion Team. Hanno il corpo necessario per poterlo fare ma hanno anche le idee per poter coordinare le varie coreografie. Chi ha creato le coreografie? Le coreografie sono delle coreografie abbastanza standard per le collezioni quindi una carrellata veloce di capi, di design che terminano per ogni designer con un finalino quindi una cosa molto veloce e molto poco coreografata se posso dire. La carrellata. Perfetto. E tu invece di che cosa ti sei occupato? Io seguo tutto il backstage perciò devo assicurare che siano sempre pronte le modelle per avere mai buchi e avere un susseguirsi sulla passerella continuo in modo da seguire tutte le coreografie che abbiamo organizzato. Quindi è stato un lavoro così, una passeggiata per voi? Una passeggiatona. Io adesso sto anche gridando perché c'è la musica forte qua, spero di non bucare troppo però sì, contenti di aver finito, bellissima esperienza, una settimana insieme a questa famiglia che è la Fashion Week è stata veramente eccitante. Il tuo nome? Roberto. Il tuo? Sempre Roberto. Questa era la battuta finale, grazie. Ciao. 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 Alla prossima.